Nel distretto finanziario di Chengdu, polo economico della Cina occidentale, sono molti brand stranieri che aprono filiali e store. Ma c'è chi lo fa con stile. Il produttore di articoli per la casa, Gaggenau, ha realizzato uno showroom che fonde tradizione teotonica e charme asiatico. Al risultato, hanno contribuito i pavimenti in legno, posati con un sistema mapei che ha assicurato durabilità, impatto estetico e con materiali a bassa emissione di sostanze organiche e volatili, la sostenibilità richiesta dal committente.